Funerali privati nella chiesa di San Giovanni dei Fiorentini a Roma per Giulio Andreotti. Dopo oltre 50 anni di vita pubblica è morto uno degli uomini più controversi della storia d'Italia. E se in vita lo scambio di accuse, anche pesanti e giocoforza dello scenario politico, di fronte alla morte tutto cambia. Si moderano i toni, si rivolge un pensiero ad un ipotetico al di là e si rimette posti rilardo a sentenza. Sindaco, un commento alla morte di Giulio Andreotti? Di fronte alla morte credo che per chi crede c'è soltanto il conforto della preghiera. Non si sbottona nemmeno Lio Luca Orlando, nemico giurato del senatore che riusciva a vincere anche quando perdeva. Capace di conquistarsi grazie alla longevità anagrafica e politica l'appellativo di Eterno Giulio. Nessuna nota ufficiale da parte del sindaco di Palermo che è soltanto incalzato dal cronista rilascia un brevissimo commento sulla morte di Andreotti. Dopo il riferimento alla preghiera Orlando taglia corto e va via. Ma chissà quante saranno state le notti insonni del primo cittadino per colpa del politico romano e dei suoi amici. Tanto da non esitare nel 1992 a dichiarare, dopo gli insulti e le minacce dei boss mafiosi, dopo la violenta irruzione della primavera palermitana, arrivano gli insulti e le minacce di Andreotti e Mannino, garantiti dalla mafia e dai comitati d'affari. Fu guerra aperta. Andreotti arrivato in Sicilia non risparmiò di precisare che avrebbe votato la lista DC dal numero due in poi. Orlando, nelle vesti di capolista, proprio non gli andava giù. E poi la rottura tra Orlando e Salvo Lima, ritenuto il luogotenente di Andreotti nell'isola, assassinato dalla mafia nel 1992. Non esiterà Orlando ad accusare Andreotti di aver rapporti con la mafia. Poi il lungo tempo dei processi. Andreotti al banco degli imputati a Palermo, dove lo si accuserà di essere amico dei mafiosi, si mostrerà sempre sicuro di sé, calmo e disciplinato. Riuscirà ad evitare il carcere e a dare l'ennesima lezione di ironico cinismo. Evidentemente, dirà, i processi mi allungano la vita. Belzebù per i suoi accusatori, il migliore stratega politico per osservatori più distaccati. Sette volte presidente del Consiglio, 21 volte ministro, personaggio più che persona, senza dubbio e cona nazional popolare. Sarà la storia a giudicarlo, ha detto di lui il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ma Andreotti certamente porta con sé molti segreti d'Italia. D'altra parte ce l'ha insegnato lui. A pensare male si fa peccato, ma di solito ci si indovina. Grazie per la visione.